Amici 22, Cricca in lacrime per l'addio la promessa sorpresa, di Isabel, ecco cosa ha detto. Cricca, eliminato dal serale di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto abbandonare per sempre il talent show e soprattutto salutare tutti i suoi compagni. Nel Daitimi in onda oggi lunedì, primo maggio, è emerso quali sono stati gli ultimi istanti emozionanti di Cricca prima di abbandonare per sempre la casetta di Amici. Il giovane di origini romagnoli si scopre non ha riuscito a trattenere la commozione e le lacrime nel non poter rivedere i ragazzi. E su tutte decisamente Isabel, con la quale aveva instaurato un rapporto speciale ad Amici anche se ultimamente tra i due pareva ci fosse stata una crisi. Però è stata la stessa Isabel, prima del saluto finale Cricca, a fargli una promessa. Dai, ti rivedrò ancora. Te l'ho promesso, è una promessa, ha confidato lei a Cricca in lacrime. Dunque, pare esserci ancora una speranza per chi crede ancora in questa coppia. Cricca ha ammesso di provare un forte sentimento per Isabel, dicendo apertamente di amarla. E l'amore ragazzi, l'amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa. Mi raccomando. Vi voglio bene, a Isabel amo, a voi vi voglio bene, ha detto ai suoi compagni mentre dava loro un ultimo saluto. Grazie a tutti.